strage del bus di Mestre e rimpallo di responsabilità tra la nuova e la passata amministrazione comunale la procura starebbe indagando da anni sui problemi della cavalcavia della Vempa. Oggi da Mestre il primo dimesso dei 15 feriti per la strage del bus è il 28enne tedesco papà della vittima più piccola di appena un anno e 5 mesi. Una stele per ricordare le 21 vittime della strage e la richiesta dei partecipanti al corteo in memoria di chi ha perso la vita sotto il cavalcavia. A causa di tre passeggeri ubriachi e aggressivi un aereo diretto dalla Turchia al Regno Unito ha dovuto chiedere il permesso per un atterraggio d'emergenza al Marco Polo di Venezia. Lunedì si preannuncia un'altra giornata di passione per i collegamenti di autobus, vaporetti e tram CTV in vista dello sciopero di 24 ore indetto dal sindacato di base. I pescatori veneziani venderanno in Corea del Sud i granchi blu pescati in laguna un accordo trasforma in opportunità economica la lotta al ridimensionamento del crostaceo. Manifestazioni in tutta Italia dei Fridays for Future a Venezia le conseguenze del cambiamento climatico sono state denunciate da piazza San Marco. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna A3. Inevitabilmente anche per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali ritorniamo sulla strage del bus di Mestre perché è rimpallo di responsabilità tra nuova e vecchia amministrazione comunale mentre da indiscrezioni giudiziarie risulta che la procura della Repubblica di Venezia stia indagando da anni sulle criticità della cavalcavia della Venta. Non abbiamo nessuna informazione in merito a fascicoli esistenti in procura. Così l'assessore veneziano alla mobilità Renato Boraso in merito alle indiscrezioni sull'acquisizione di informazioni sul cavalcavia di Mestre da parte della procura di Venezia già da anni. Ad allertare l'attenzione della magistratura veneziana sarebbero state le denunce sulla caduta di calcinacci ovvero le criticità di Ramparizzardi e del cavalcavia della Vempa pubblicate sulla stampa già da tempo con l'acquisizione dei magistrati dal comune di Venezia delle carte relative alla situazione statica del cavalcavia e ai progetti per il consolidamento e ristrutturazione compresi quelli sul rifacimento delle protezioni laterali. Notizia oggi smentita dall'assessore di reparto sebbene con un punto interrogativo rispetto alle passate amministrazioni di centro-sinistra. Quindi smentisco categoricamente che ci siano in comune richieste avvenute in passato di fascicoli non lo sappiamo. Puntuale la replica dell'ex vice sindaco di Venezia e attuale consigliere comunale Bettin che tira dritto e precisa allora il comune era commissariato dal 2015 il cavalcavia in capo al comune. Se ricordo male la giunta chiarisca, aggiunge chiedendo formalmente che la giunta renda pubblica la citata delibera che sembra non si trovi o sia addirittura sparita dal sito del comune. Questo vuol dire che bisognava intervenire per tempo ma questo lo vedremo poi nel proseguo dell'indagine. Io eviterei polemiche attendendo i dati fattuali che emergeranno dalla indagine della procura. Nel rimpallo di responsabilità i lavori di messa in sicurezza iniziati il 4 settembre scorso continuano. E dal comune di Venezia fanno sapere che le delibere cui fa riferimento Bettina sarebbero solo la riconizione dell'uso pubblico di tutte le strade della terraferma e non si farebbe a riferimento alla proprietà. In ogni caso l'amministrazione comunale si riserva un esame più dettagliato e ne darà poi evidenza. Intanto oggi da Mestre il primo dimesso dei 15 feriti per la strage del bus. Si tratta del 28enne tedesco, papà della vittima più piccola di appena un anno e cinque mesi. Sarà la regione del Veneto a pagare le spese per il rimpatrio delle 20 salme di nazionalità straniera. Il presidente Zaia ha autorizzato i fondi in mattinata all'obitorio di Mestre dalle 11. Con un fiore in mano è iniziato il mesto pellegrinaggio di familiari, parenti e amici delle persone morte nell'incidente di martedì sera. Scortati dai carabinieri sono entrati in ospedale insieme ai medici per portare un'ultimo salute ai cari istinti in attesa del rimpatrio delle salme per le quali si prevedono tempi non brevissimi. E sempre in mattinata dall'ospedale di Mestre è stato dimesso il papà 28enne di nazionalità tedesca della vittima più piccola della strage di martedì, Charlotte Nima Fromherz, un anno e cinque mesi appena. La mamma di 27 anni resta ancora ricoverata in terapia intensiva, mentre tra lunedì e martedì verrà trasferita dall'ospedale di Trivisa a quello di Padova la mamma ucraina in miglioramento per essere avvicinata alla sua bimba di soli quattro anni in terapia intensiva in gravissime condizioni da martedì. Le autorità sanitarie hanno deciso di trasferire la mamma all'ospedale di Padova con la speranza che la sua presenza possa essere percepita dalla piccina. Si confide in un miracolo, quello dell'amore incondizionato in grado di poterla salvare, stazionare infine le condizioni di salute degli altri feriti ricoverati tra diversi ospedali del Veneto. Una stele per ricordare le 21 vittime della strage e la richiesta dei partecipanti stamane al corteo omaggio ai defunti sotto alla cavalcavia di Marghera. Dalle 10 del mattino alla camminata silente con in mano i fiori, le corone, i bigliettini di cordoglia, i pupazzetti, tanti pupazzetti in peluche da riporre ai piedi dei piloni della morte per quella che è stata ribattezzata la strage delle bimbe. Tra le vittime in 5 avevano meno di 14 anni. Siamo carichi di lutto, carichi di angoscia, di dolore e sofferenza. Io credo che in questo momento balsamo per il cuore siano anche iniziative che nascono dal territorio come quella di stamattina. La nostra comunità è molto attenta a queste cose ed è molto vicina a queste problematiche e a questi momenti catastrofici che accadono nel nostro territorio. Iniziativa organizzata da un gruppo di cittadini di Marghera con il tamtam avvenuto via social. Cioè dare testimonianza. Oggi è importante fare questa cosa qua. La nostra società è diventata una società dei like. Non deve essere così. Dobbiamo fare un po' un po', usare lo strumento social come facciamo noi, però anche dare una testimonianza fisica. Il corteo, composto da una cinquantina di persone, si è formato all'inizio di Via Fratelli bandiera fino al punto dove è caduto il bus. La gente ora chiede che il posto diventi un momento di memoria con una stele per non dimenticare e come monito perché non si ripetano tragedie quali questa. E non si deve dimenticare perché sono morte tante persone innocenti, dei bambini, una mamma incinta. Insomma è stata una tragedia grande per noi di qua di Marghera Mestre veramente. Un bacio a tutti quanti. E una preghiera, un pensiero, sono stati rivolti questa mattina alle vittime e ai feriti della strage di Mestre nella messa presieduta dal Patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia nel Duomo di Treviso durante la celebrazione per il ritorno delle spoglie di San Pio X in Veneto e nella Marca. Tanti fedeli che hanno voluto accostarsi alla teca che conserva il corpo del pontefice già patriarca di Venezia che un'ora fa ha lasciato Treviso a destinazione Riese Pio X. Questa sera alle 21.15 in diretta proprio qui su Antenna 3 la veglia dei giovani alle Cendrole. Dopo l'attacco via terra, mare e aria di Amassi in Israele con migliaia di missili che hanno colpito 21 località dello Stato ebraico e un bilancio di almeno 100 morti, 900 feriti e decine di ostaggi sotto assedio è stata innalzata anche in Italia la vigilanza su obiettivi sensibili israeliani. A Roma in particolare rafforzati presidi di sicurezza nella zona del ghetto ebraico con la sinagoga in primo piano e poi l'ambasciata e le altre residenze diplomatiche. Un'attenzione che coinvolge anche il Veneto dove la comunità ebraica più importante è quella di Venezia a capo delle attività culturali e religiose nella veneziano Treviso e Belluno. A causa di tre passeggeri particolarmente aggressivi e molesti in stato di alterazione alcolica, un aereo diretto dalla Turchia al Regno Unito ha dovuto chiedere il permesso di atterrare al Marco Polo. Ubriachi, aggressivi e molesti sia verso i membri dell'equipaggio che verso gli altri passeggeri del volo, tanto da costringere il comandante di un aereo di linea partito da Dalaman in Turchia e diretto a Liverpool ad un improvviso cambio di rotta e alla richiesta di un atterraggio fuori programma all'aeroporto Marco Polo di Tessera, un fuori programma necessario per sbarazzarsi di tre cittadini inglesi, due uomini e una donna, che avevano reso impossibile il prosieguo del viaggio. In forte stato di alterazione dopo essersi scolati un'intera bottiglia di superalcolico acquistata all'aeroporto di partenza, il terzetto, di età compresa tra i 59 e i 40 anni, dovrà rispondere della violazione delle norme di comportamento previste dal Piano Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile, secondo cui non è consentito intraprendere il viaggio aereo in stato di ebrezza. Accolti al loro arrivo a Venezia dalla Polizia italiana, sono stati prima multati, quindi respinti alla frontiera, poiché sprovvisti di documenti idonei alla dimostrazione dello scopo del soggiorno e senza mezzi di sussistenza. I tre inglesi sono stati poi reimbarcati su voli di linea diretti nel Regno Unito, non prima però di aver smaltito la sbornia nei locali della Polizia di frontiera, in attesa del ripristino di uno stato psicofisico idoneo al volo. Giornata di mobilitazione, quella di oggi per la CGL a Roma, c'erano anche tanti veneziani. Una straordinaria partecipazione alla manifestazione di oggi a Roma, questo dimostra che le scelte nel governo sono sbagliate. C'è anche una nutrita rappresentanza di veneziani, tra i circa 6.000 veneti che hanno partecipato alla manifestazione nazionale organizzata a Roma dalla CGL per il lavoro e per l'istruzione contro la povertà e le disuguaglianze per l'ambiente, il salario minimo e la sanità pubblica. Tanti temi diversi che trovano però la propria sintesi nel chiedere il rispetto e l'applicazione di una Costituzione che secondo la CGL oggi come non mai è messa in discussione. Il governo deve ascoltare la CGL, deve aprire subito un tavolo di confronto per ascoltare le nostre proposte su salario, pensioni, ambiente e sviluppo sostenibile. Sono alcuni dei temi su cui noi vogliamo e pretendiamo un confronto. Senza dialogo e senza ascoltare questa piazza è chiaro che non ci fermeremo. Per milioni di italiani i pericoli sono tanti e diversi dall'iniquità fiscale di una riforma che prevedesse la flat tax perdendo in equità e progressività ad un'evasione fiscale definita insostenibile dalla CGL. Secondo il sindacato giustizia sociale e ambientale devono andare di pari passo nella costruzione di un modello che sia nell'interesse delle future generazioni come recita l'articolo 9 della nostra Costituzione. In legge finanziaria ci devono essere delle risposte concrete alle persone che rappresentiamo che ormai non ce la fanno più. Non ce la fanno più rispetto alla situazione del loro salario, non ce la fanno più rispetto alla situazione della sanità e dell'istruzione, che vogliamo pubbliche e universali. Su questi temi noi chiediamo un intervento, un cambiamento forte. Sempre per la cronaca sindacale si preannuncia una giornata di passione, quella di lunedì per il trasporto pubblico locale. Sarà una giornata di grandi disagi con vaporetti, autobus e trama CTV a singhiozzo, se non addirittura fermi, quella di lunedì 9 ottobre, per quanti si dovranno muovere a Venezia. L'Unione Sindacati di Base USB ha indetto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, che scatterà dalla mezzanotte di domenica fino alla stessa ora di lunedì. A Venezia il settore più rischio è sempre quello dei colgamenti acque in laguna, garantiti solo i colgamenti minimi con le isole, le fasce orarie di rispetto e qualche corso a Feribot a CTV di linea 17. Ci operiamo per dei salari dignitosi, perché ci sia un minimo salariale su cui iniziare una contrattazione. Ma il motivo principale è per una maggiore sicurezza sui posti di lavoro. Fino ad oggi sono stati oltre 900 i morti solo quest'anno. Alberto Cancian, segretario provinciale USB, ribadisce le richieste, ricorda la tragedia sul cavalcavia di Mestre e lunedì mattina alle 11, durante lo sciopero, arriveranno in molti anche da Venezia fino a Roma per protestare davanti al Ministero dei Trasporti. Venga introdotto il reato di omicidio sui posti di lavoro. Chiediamo attraverso lo sciopero, attraverso la voce che ci viene data in questi giorni, che parte subito una serie di controlli per mettere in sicurezza subito tutte le strade di cui il trasporto pubblico e anche privato ogni giorno se ne avvale. Un pensiero anche alla famiglia dell'autista che ha perso la vita, che era a bordo dell'autobus. Pubblicità fra poco. Di nuovo in diretta per il DATG di Venezia, parliamo del granchio blu perché i pescatori veneziani sono pronti a vendere in Corea del Sud i crostacei pescati in laguna. Abbiamo iniziato un percorso, ora logicamente le aziende, le società dove si dovranno incontrare e trattare il problema a livello economico. Trasformare l'emergenza che impone un ridimensionamento del granchio blu in laguna in un'opportunità di sviluppo economico di livello internazionale. Tramite l'assessore al commercio Sebastiano Costalonga, il Comune di Venezia si è posto in un ruolo di intermediario tra le realtà imprenditoriali della pesca e un mercato pronto ad essere punto d'arrivo di esportazioni come quello della Corea del Sud. Corea ha amato moltissimi blanchio blu. A causa della carrenza di blanchio blu in Corea, la Corea importava molti blanchio blu dal estero. Se la Corea può importare blanchio blu dal Italia, ci sarà reciprocamente vantaggio per la Corea e Venezia. La fattibilità del progetto, ha detto Costalonga, è possibile grazie al supporto indispensabile di operatori esperti del settore che garantirà ai consumatori coreani la possibilità di disporre di un prodotto lavorato secondo i migliori standard qualitativi. Il prossimo passo sarà formalizzare accordi commerciali e procedure operative. La Regione Veneto ci auguriamo che sia al nostro fianco, e sicuramente lo sarà, per fare in modo che le nostre aziende riescano ad essere competitive e abbassare i costi il più possibile per far decollare questo progetto. Dal granchio blu al cambiamento climatico, il passo è davvero breve, è brevissimo. Oggi non va a protesta anche a Venezia del movimento Fridays for Future. Stamattina come Fridays for Future Venezia abbiamo deciso di far parlare Piazza San Marco all'alba, quando ancora non c'era nessuno, per appendere un grande striscione che recitava che noi siamo parte della laguna che si ribelle, siamo parte della laguna che si ribelle e si difende. Il movimento del Fridays for Future di Venezia ha aderito allo sciopero climatico globale dal cuore della città, dalla Basilica di Piazza San Marco, dove uno striscione ricorda come la fragilità della laguna renda proprio qui più gravi le conseguenze del cambiamento climatico, assieme ad altri progetti che si profilano all'orizzonte. Gli scavi che vogliono fare nel canale Vittorio Emanuele per un futuro passaggio nel 2027 di nuovo delle grandi navi. Le grandi navi sono delle grandi opere come gli scavi che vogliono fare e sono tutte opere che danneggiano irreparabilmente la laguna. Noi come movimento per il clima e per difesa dei territori ci schieriamo chiaramente contro tutto questo, anche contro il moto ondoso che è un altro dei problemi che subisce Venezia. Le proteste dei ragazzi che aderiscono ai Fridays for Future, un movimento internazionale che si batte per la giustizia climatica, vengono spesso bollate dalle controparti come opposizioni a progetti di sviluppo da parte di quello che viene definito il partito del no. Diciamo no quando ci troviamo davanti a qualcosa che distrugge il nostro futuro e che non ci dà la possibilità di guardare oltre alla settimana. Non so come spiegarmi meglio, per noi non possiamo dire di sì a politiche che guardano solo ai turisti e non pensano ai cittadini e ai futuri residenti di questa città. Lo sport, il calcio, questo pomeriggio al Penso alla nona giornata di Serie B. Il Venezia contro il Parma ha vinto per 3 a 2, bissando il successo ottenuto nella giornata precedente contro il Modena e portandosi con 18 punti al terzo posto in classifica. Parliamo di noi in ultimissima battuta. Sono passati 60 anni esatti dalla notte del 9 ottobre 1963 quando si è consumata la tragedia del Vaillant. Anche quest'anno Antenna 3 ha deciso di ricordare il disastro che ha segnato non solo il Veneto ma l'Italia intera con una serie di appuntamenti a partire da domenica 8 ottobre, domani con il documentario L'eco del fango in prima serata alle 21.15. A seguire lunedì 9 ottobre la lunga diretta dalle 8.45 seguirà la messa in suffragio delle vittime dalla chiesa parrocchiale di Erto e l'omaggio del capo dello Stato Mattarella al cimitero di Fortonia e sulla diga. Per concludere alle 21.15 andrà in onda una puntata speciale di Ring con le testimonianze dei sopravvissuti in diretta dalla diga della Vaillant. È tutto per questa edizione veneziana, vi lascio le previsioni del tempo, buona serata. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso. Ben trovati al meteo. Sole, tempo stabile e caldo anomalo. A due settimane dall'inizio ufficiale dell'autunno, l'estate mantiene ancora il pieno controllo della scena meteorologica. Ma vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di domenica 8 ottobre evidenzia un ampio soleggiamento. Il cielo si presenterà sereno con qualche addensamento del tutto innocuo. Temperature oltre la norma, sia di giorno che di notte, minime sugli 11-17 gradi, massime tra 25 e 31 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà bel tempo, solo al mattino saranno possibili delle nebbie sulle zone di pianura. Temperature minime tra 10 e 16 gradi, massime sui 26-27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà ben soleggiato, stabile e molto mite. Temperature minime, infatti, intorno agli 11 gradi, massime sui 28-29 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso.